Beh direi senz'altro il bilancio possiamo affermare che è positivo sia per quanto riguarda l'affluenza del pubblico e anche per quanto riguarda l'accoglienza del pubblico alla musica, allo spettacolo, agli artisti e al compositore e direttore Nicola Piovani che è stato l'artefice assieme a tutto lo staff creativo di questo successo. E' un bilancio più che positivo dunque quello dello spettacolo Amorosa Presenza, l'opera commissionata al premio Oscar Nicola Piovani andata in scena fino a sabato scorso al Teatro Verdi. Nuova l'opera e in parte nuovo il pubblico, cresciuto nel corso delle repliche e in molti casi composto da giovani e famiglie con bambini. Non soltanto la musica anche in questo caso ma anche veramente le bellissime scenografie e poi le idee registiche di questo spettacolo che naturalmente direi che sono sicuramente vicine al mondo della fiaba. Una bella favola, moderna però con una musica che è adatta anche all'orecchio dei bambini e questa è una cosa molto importante. Un'operazione che non è casuale, quella di attrarre pubblico nuovo come spiega il direttore artistico. È un percorso, voglio aggiungere, che il Teatro Verdi sta facendo e che ha fatto negli ultimi anni. Lo facciamo sia nel Sinfonico e l'abbiamo fatto anche con nuove creazioni, commissionando opere in un atto o rivisitando il repertorio attraverso nuove orchestrazioni e questo è il momento in cui raccogliamo un po' questi frutti e ci proiettiamo nel futuro. Grazie a tutti.